Salve, benvenuti ad un nuovo appuntamento con tecnologia istruzioni per l'uso. Questo è l'ultimo della nostra serie riguardo il mondo della radio e dei radioamatori e vogliamo concludere in bellezza questa miniserie che abbiamo iniziato qualche settimana fa insieme all'associazione ERA di Salerno e nello specifico con Agostino Landi e Fabio Capaldo e abbiamo anche qui con noi Gabriele Di Simone, un esperto in elettronica e in informatica. Parliamo quindi di protezione civile. Iniziamo innanzitutto con le presentazioni. Che cos'è l'ERA e che cos'è che fate? La nostra organizzazione ERA Salerno è un gruppo di radioamatori che gestisce una sala radio in caso di calamità naturale. Veniamo attuati normalmente dalla regione Campania. Noi ci organizziamo per quanto riguarda queste eventuali calamità con altre organizzazioni per fare come da supporto radio, quindi con le forze dell'ordine, con i vigili del fuoco e anche con il corpo forestale. Cerchiamo di mettere a nostra disposizione la nostra capacità tecnica e operativa e quindi noi ci diamo da fare per quanto succede qualche eventuale calamità. Adesso andiamo un po' più nello specifico. Qual è l'importanza della radio nella protezione civile? Allora, la radio è molto importante in caso di calamità naturale perché ci sono eventuali blackout di tutte le informazioni sia per quanto riguarda telefoniche sia per quanto riguarda blackout elettrici. Quindi la radio è l'unica apparecchiatura che si potrebbe mettere in contatto con tutti gli operatori delle forze dell'ordine e per quanto riguarda anche la cittadinanza per il 118, eventuali ospedali eccetera eccetera. Quindi nel mondo della protezione civile e delle calamità in caso di catastrofi il digitale non può essere proprio utilizzato per una questione di sicurezza, di facilità di azione e di velocità nell'intervento? Noi normalmente usiamo solamente l'analogico perché nel momento in cui c'è un digitale è un po' più difficile da gestire e quindi ci vuole molto più tempo e poi ci sono anche zone dove non è possibile poi stabilire alcuni contatti. Riguardo a questo di cui abbiamo parlato proprio adesso, in che modo vengono garantiti i collegamenti ad esempio in caso di una catastrofe naturale? Allora, ci garantiamo questo perché noi siamo forniti di apparecchiature radio, di un camper, di una sala radio mobile, di altre autovetture mobili dove sono installate apparecchiature radio dove si può mettere in contatto in qualsiasi momento e vengono messi a disposizione delle forze dell'ordine. Abbiamo una base fissa dove si trasmette e si comunica con le forze dell'ordine che sono eventuali postazioni mobili e abbiamo anche su queste postazioni delle radio che si può vedere il mobile, sarebbe la stazione mobile, dove in quel momento Precise sta operando. Via radio, utilizzate anche sistemi di localizzazione? Colgo la domanda a te. Innanzitutto buonasera, colgo l'occasione per salutare tutti i nostri ciosi, anche i radioamatori, il nostro presidente Giuseppe Pecora. Praticamente noi, ritornando al discorso del collega Agostino, l'unico sistema digitale che usiamo è l'APRS, che è l'acronimo di Automatic Position Reporting System, che non è altro che una trasmissione di dati, di una stringa digitale via radio, per la localizzazione di stazioni fisse e mobili, che vengono elaborate dal personal computer. Le stazioni, sia mobili che fisse, trasmettono una stringa di dati digitali in un determinato periodo di tempo. Grazie a questa stringa voi potete individuare le posizioni delle vostre unità e anche delle calamità o degli interventi in cui dovete... Sì, certamente. Possiamo... Le stazioni fisse e mobili trasmettono sia stringhe di dati, cioè di coordinate GPS, sia messaggi di emergenza. Quindi noi, dalla sala radio fissa, riusciamo a stabilire un collegamento, sia anche con messaggi tra... Ovviamente tra la sala radio fissa e le varie postazioni mobili di emergenza. Tornando, diciamo, all'argomento della puntata e a quello che abbiamo detto all'inizio. Nel concreto, qualche mese fa, avete effettuato un'esercitazione internazionale a Salerno durante l'operazione Twist. Agostino, ci puoi spiegare di cosa si trattava e nel dettaglio a cosa è servita questa esercitazione? Bene, noi ci siamo organizzati per fare questo maremoto Twist a Salerno, sul porto di Salerno, Molo Manfredi. Abbiamo avuto contatti con diverse unità di sommozzatori, sia italiani e sia stranieri. Abbiamo fatto supporto radio, cioè comunicare dalla base a ogni postazione di questi sommozzatori l'eventuale emergenza, se avevano bisogno di qualsiasi cosa. Diretti direttamente dal direttore di questo progetto. Quindi noi abbiamo avuto cinque giorni di supporto tecnico radio attraverso questo dialogo tra noi, tra le forze dell'ordine e tra gli eventuali sommozzatori che poi gestivano. eventuali, diciamo, eventuali disposizioni, eccetera. Sì, e questa forma di dialogo poi naturalmente, suppongo, si ripeta anche in eventi diversi dal domo aremoto che possono essere altre catastrofi naturali. Infatti noi ci organizziamo proprio per fare supporto radio a tutti i membri dell'organizzazione. Sì, diciamo questo è il ruolo principale, il compito fondamentale. Stare a fianco a qualcuno che ci dia dei comandi, degli ordini, eseguirli, fare attraverso la base e chiamare eventuali soccorsi. Naturalmente, abbiamo dimenticato di dirlo, ma è un'attività che assolutamente non ha alcun fine di lucro. In che modo viene però finanziata questa vostra attività? Assolutamente. Noi abbiamo nessuna attività di lucro. Queste attività vengono sovvenzionate attraverso il 5 per mille, dando dalle persone, dal cittadino, che hanno e avranno dei supporti di qualsiasi cosa. Assistenza medica, assistenza... perché noi siamo a disposizione di tutti. E' il nostro volontariato, perciò si chiama volontariato, perché noi abbiamo, anzi a volte, a volte noi ci rimettiamo pure, perché noi lo facciamo con spirito, di passione, perché noi abbiamo bisogno di avere i contatti con il mondo esterno. Sì, e naturalmente questi fondi servono poi a sovvenzionare attrezzature, spostamenti. A sovvenzionare in eventuali attrezzature, regolazioni di radio, di apparecchiature elettriche, magari spostamenti per quanto riguarda, purtroppo, le macchine, le assicurazioni, purtroppo nessuno ci dà niente. Noi lo facciamo solo per spirito di passione. E sono tutte cose che però, in caso di una catastrofe, di una calamità naturale, poi sono molto importanti, sono fondamentali. Assolutamente, perché un gruppo di persone, di 15, 20, 30 persone, mantenerla fuori anche per mangiare, comunque ci vuole un sovvenzionamento. Se non ci sta, non possiamo fare niente. Sicuramente. Credo che, se Fabio non ha altro da aggiungere, possiamo concludere qui questa puntata. Ne approfitto per ringraziarvi per essere stati qui con noi e per salutarvi. Vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre qui su Voce di Strada.